L'anzetta bazzicava dalle parti di via Tuscolana, piazzare di Roma, via Taranto, laddove c'era qualche mercatino rionale, qualche caserma o qualche mensa di frati. Quando era fuori da casa, si arrangiava un po' lavorando, meno che poteva, per qualche pesciarolo o qualche piazzista, un po' fregando per le bancarelle o nei tramvi. Quando gli andava, restava nella periferia, dalla borgata prenestina al quadrato, con un sacco tutto sbrillentato, a cercare di vecchi o pezzetti di piombo tra le spazzature.